Grazie Allora io sono Maestrelli Martina e sono la presidente della SD Bresciana Non Solo Sport Allora io volevo ringraziare dell'invito la All Star Game per questa opportunità data ai nostri ragazzi di scendere in campo tutti insieme per testimoniare che lo sport è un mezzo privilegiato in cui anche i nostri ragazzi possono emergere ringrazio tutta la squadra e i giocatori che sono scesi in campo dimostrando comunque grande amicizia nei confronti dei nostri atleti Ciao ragazzi, sono Alessandro Cittadini, docro del Battle Pressure da Dionessa e oggi sono qua a divertirmi con i ragazzi del Special Olympics è un'emozione unica giocare con molti ragazzi perché ci mettono un'anima e un cuore come se fosse la finale del campionato ed è bellissimo e spero che tanti aiutino questi ragazzi come stanno facendo i loro allenatori perché si lascia tante cose dentro, questo qua è importante a presto